Per me l'ha migliorato molto, non ho capito, super giocatore che deve fare per me il giocatore che ha delle grandi qualità e spero che riesce a esprimere, vi ripeto, un mese e mezzo che poi sono due mesi e non sono un mese e mezzo, per me è migliorato molto nel suo ruolo che è volentà di fare rispetto all'inizio. La sensazione è che Totti e De Rossi possano rendere le più vettabili durante la squadra che sono sicuramente importanti, in due ruoli diversi da quelli che occupano adesso, per Totti non più delegati, come tanti anni fa, perché mi permettono di incorrere gli avversari solo un tempo e potrebbero essere cauti al centro, e De Rossi qualche velo più avanti da intervento, visto che comunque le hanno voluto portare anche da Xilis, anche perché si pensavano che se svincolare non sia questo ruolo che lo tiene un po' troppo fermo, ecco, c'è questa possibilità per tutte e due o per loro e per l'altro eventualmente chi, se ci sta pensando? Io ho dichiarato all'inizio e non cambio il ruolo di Totti e quello che secondo me ha fatto tredici anni fa, è normale che i movimenti sono diversi rispetto a domenica scorsa e è l'assieme di questo ruolo di centrocampista che può fare tutti i tre ori, è dipendendo dall'avversario, dipendendo da quello che vogliamo fare in questo ruolo. Scusi Ministro, sto parlando la legislazione, non pensa che Totti in quel ruolo possa darle di meno, ecco, questo rispetto a quello che può darle in un ruolo, al tempo di fatto erano meglio, invece non è che tanti gol davanti a sporti all'avversario? Io penso che Totti può fare di più, se no non c'è un teo di progettazione. Grazie.